Musica Bisogna dire che intanto io lavoro insieme a Frédéric Bremont che è lo sceneggiatore francese che ho conosciuto 15 anni fa e con cui lavoro costantemente su molti progetti e quindi diciamo che ormai le mie opere nascono da delle conversazioni che abbiamo giornalmente e che quindi mi sono d'ispirazione, io propongo idee, lui propone idee, insieme creiamo le storie e da qui, da queste storie, da queste immagini che mi vengono appunto in mente io cerco di realizzare con il mio stile, poi con i miei mezzi, i disegni che vedete qui esposti insomma Musica Saluto Luca Comics, tutti gli intervenuti alla mostra e soprattutto gli organizzatori che hanno fatto un lavoro meraviglioso Grazie e buon divertimento